ciao a tutti eccoci qui per un nuovo video di south park il bastone della verità ps3 dobbiamo praticamente andare a svolgere una piccola guest per per far sì che il nostro amico diventi a tutti gli effetti credibile per quel gruppo di dark che dovranno comunque far parte del gruppo di carne per combattere gli elfi che hanno rubato il bastone della verità thanks for coming new kid everyone this is the kid whose family just moved to town we've become very close friends his name is what's your name well anyway this child and i witnessed something last night and i'd like you to hear his story go ahead tell them you know about all the go ahead tell them that story this is a waste of everyone's time if the pta isn't going to do something about taco bell taking over then the rest of us parents will come on come on fuck the conformist why are they a good lay i saw you on the ship i don't blame you for not wanting to talk about it but people need to know what's going on i used to have a bad hoarding problem okay but i got past it now i can just throw things away would you mind throwing this away for me i just need it thrown away somewhere very specific i'll show you on your map this is a pta meeting young man be on your way this is a pta meeting young man be on your way i don't blame you for not wanting to talk about it but people need to know what's going on why don't you exercise your free speech at home little boy why don't you exercise your free speech at home nobody's screwing around in here hey put screwing around look i know how you're feeling okay but this isn't going to solve anything we've got to get inside that taco bell and find out what's really going on help me with that and i'll help you with this i saw you on the ship you have pretty good control over your farts meet me in the bathroom it's time for you to learn some real power andiamo a seguire il tipo in bagno i can tell you have potential but you are undisciplined let me show you what i mean come at me try and fart on me come on key y'all you call that farting on someone you missed by a mile try again key y'all you call that farting on someone you missed by a mile try again key y'all you must learn to control your parts to move and release a specific time and place i'm going to teach you a part called the sneaky squeaker ma prendiamo un altro score i'm going to teach you a post don't believe me try and block my attack you see that i distracted you distracting your opponents is key to battle look let me show you again pay special attention to the viscosity okay you try make your fart detonate behind me undisciplined even a child could block that fart look let me show you again pay special attention to the viscosity undisciplined even a child could block that okay you try make your fart detonate behind me okay you try make your fart detonate behind me leaky it needs more surface tension look let me show you again pay special attention to the viscosity e okay you try All right, make your fart detonate behind me. Oh hey guys. Oh, Mr. Mackey, now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. You waited too long, the bubble popped in the wrong place. Do it again. Wow, he's still going huh? Do it again. Wow, he's still going huh? Do it again. You waited too long, the bubble popped in the wrong place. Do it again. Hey, did you guys hear that? It sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I talk about inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. No matter what happens. Never fart on anyone's balls. Got that? All right. Now go. Oh, man. He's been ready. Well, I'm out of the middle. The best of the scorers are now. At the point. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh and then come in there. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. vediamo dove sarebbe questo posto ah ok quindi dobbiamo andare lì, va bene direi che con questo video vabbè via si va di scoreggia ci possiamo anche salutare qua nel prossimo video andremo a fare quella guest lì per incontrare vediamo un po' se qua c'è una fermata vicino in modo da salutarci ok perfetto allora guest la vediamo dove c'è una fermata vicina non abbiamo sbloccata questa bandierina qua non hai bene non ci fa andare quindi bisogna andare a piedi per forza di cose quindi avremo un bel po' di strada da fare e via discorrendo quel gore lì è pazzesco che praticamente non smette mai di inviarci messaggi non so perché in questo momento della storia non possiamo vediamo c'è il prezzo diamo diritti a spediti ok ok dobbiamo tornare indietro andare su perdici a saltpark è incredibile perfetto perfetto eh però suona la bandierina che cacchio è abbiamo anche oltrepassato il nostro obiettivo che dovrebbe essere Taco Bell qua ma cacchio è qua dentro allora Taco Bell è qua 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 vediamo nella piantina perché nella mappa no non è qua quindi giusto da vedere un attimino qua che mi sono anche perso incredibile dobbiamo intrufalarci qua e saranno tutti i cacchi nostri sweet per utilizzare la loffa silente tieni premuto intanto la loffa silente è questa quando la scoreggia è dove vuoi tu usa x per farla detonare non sorry absolutely nobody allowed past check back in a few weeks thank you don't you know any way to get past people it's wow dude wow dude wow dude wow io non riesco a capire come fare a detonare maledizione ecco l'ultima volta poi direi che facciamo basta perché poi questa detonazione qua che non mi viene non mi viene assolutamente nobody allowed past check back in a few Sì, sì, sì. è terribile bisogna fare velocissimo quindi uno scappa poi l'altro per questo video ci salutiamo qui quest'altra volta mi metterò più di impegno a scoreggiare alla grandissima ciao a tutti da LucaCSS questo è il suo parco, il bastone della verità ciao